Acquaroli a Pesaro per sciogliere i nodi della sanità Cessata l'allerta a vento, centinaia gli interventi dei vigili del fuoco In arrivo altre 35 torri di telefonia, si presenta il nuovo regolamento Caserma aperta a Pesaro nella giornata delle forze armate Via al festival Cartoceto DOP, nonostante le difficoltà agricole legate al clima Ben ritrovati su Rossini TV, questo è il nostro telegiornale di oggi lunedì 6 novembre che apriamo con le immagini che arrivano direttamente dal municipio di Pesaro dove si sta concludendo proprio in questi minuti il consiglio comunale monotematico sulla sanità organizzato alla presenza del presidente della regione Marche Francesco Acquaroli e dell'assessore alla sanità Filippo Saltamartini, tanti quesiti che i consiglieri pesaresi e i sindaco Ricci hanno messo sul tavolo dei vertici regionali, su tutti i chiarimenti sul tema del nuovo ospedale, lo spostamento degli attuali servizi da Muraglia e l'impatto sul quartiere di Muraglia, chiarimenti allargati anche a temi come la tutela del servizio di guardia medica, quello di pediatria e la carenza di medici. Ascolteremo le voci dei protagonisti nel telegiornale di domani, intanto però anche il comune di Fano reclama un analogo momento di confronto. Il sindaco Seri attraverso un comunicato ricorda come da tempo si stia chiedendo un faccia a faccia sulla programmazione della sanità fanese, sul cui futuro abbondano i punti di incertezza. È cessata l'allerta per le forti raffiche di vento che fino a questa mattina hanno interessato la nostra provincia di Pesaro Urbino, soprattutto nelle sue aree interne collinari. Il bilancio è di centinaia di chiamate ai vigili del fuoco per altrettanti interventi che hanno riguardato soprattutto alberi caduti in strada e pali della rete elettrica divelti e abbattuti. Vigili del fuoco intervenuti anche per la messa in sicurezza di impalcature edili e infissi pericolanti, così come di tegole a rischio crollo dai tetti. Interventi a macchia di leopardo fra Monbaroccio e Carignano, dove si sono registrate temporanee interruzioni della circolazione stradale per rimuovere piante abbattute. Particolarmente disagiati anche i territori di Urbino, Mondolfo e Monte Ciccardo. Ieri è stato anche temporaneamente vietato il transito in autostrada nei pressi di Pesaro ai mezzi telonati e ai caravan che rischiavano di essere scoperchiati dalle forti raffiche di vento. E invece nei pressi del casello di Marotta i vigili del fuoco sono intervenuti attorno alle 3.30 di questa notte per un incendio ad un'automobile parcheggiata nei pressi del barco autostradale. I pompieri hanno messo in sicurezza l'area e nessuna persona è rimasta ferita. Da chiarire le cause che hanno innescato il rogo. Dopo mesi di polemiche riguardanti le installazioni di torri di telefonia, a Pesaro arriva il nuovo regolamento comunale per preparare e concertare l'impianto sul territorio di altre 35 simili stazioni radio. Arriva il nuovo regolamento e il nuovo piano di rete per l'installazione degli impianti di telefonia mobile 5G nel comune di Pesaro. L'illustrerà l'assessora alla sostenibilità Maria Rosa Conti durante un incontro pubblico che si svolgerà in modalità telematica domani martedì 7 novembre a partire dalle 17.30. Si tratta di un appuntamento rivolto a privati e portatori di interesse che potranno valutare e concertare la proposta elaborata dai tecnici dello studio Polab incaricate delle nuove pianificazioni dopo le tante problematiche emerse nell'ultimo anno in merito all'installazione di torri di telefonia in città. Vedi il caso di Soria così come quelli di Muraglia o di Fiorenzuola di Focara. Secondo l'assessora Conti il nuovo progetto di localizzazione delle stazioni radiobase privilegierà i siti di proprietà comunale che garantiscono copertura dei servizi e al contempo assicurano le condizioni di massima cautela per l'esposizione ai campi elettromagnetici. L'obiettivo è quello di giungere ad una soluzione che riduca l'impiatto ambientale e paesaggistico nel rispetto delle esigenze di copertura di rete. Intanto si apprende che sono 35 le nuove postazioni di telefonia che andranno impiantate a Pesaro, una cifra che scende di quasi un terzo rispetto al centinaio che erano previste nel precedente piano e che ora andranno armonizzate in un non semplice compromesso fra esigenze tecnologiche e impatto su aree residenziali. Ed ora cambiamo argomento, facciamo un passo indietro, andiamo alla giornata di sabato 4 novembre quando la caserma di Pesaro ha aperto le sue porte alla cittadinanza per celebrare la festa dell'unità nazionale e la giornata delle forze armate. Ricorrenza che inevitabilmente ha portato ad una riflessione sugli scenari in Ucraina e Medio Oriente. Come ogni 4 novembre la provincia di Pesaro Urbino ha celebrato la festa dell'unità nazionale, la giornata delle forze armate, una ricorrenza che celebra il 4 novembre del 1918, data dell'armistizio di Villa Giulia che di fatto completa il processo di unificazione nazionale con la conquista dei territori di Trento e Trieste. Una giornata celebrata al 28esimo reggimento Pavia con la giornata a caserme aperte con tanti bambini, tanti studenti delle scuole pesarese con le loro famiglie che hanno potuto visitare questi luoghi in un giorno così particolare. La cosa più bella è stata vedere tanta partecipazione e entusiasmo da parte della gente di Pesaro e soprattutto dei ragazzi, alcuni molto piccoli delle scuole, alcune scuole elementari. Per me è stata veramente una fonte di entusiasmo, una sorgente di entusiasmo oggi vedere questo scenario nella mia caserma. La mia caserma è un luogo di addestramento affinché i miei uomini e donne che attualmente operano proprio in quelle aree che ho citato nel mio discorso e che anche il sindaco ha ripreso, quindi aree soggette a fortissimi rischi ma sono sempre addestrate per operare al meglio, per eseguire tutti i compiti previsti dal nostro mandato. E' naturalmente un 4 novembre che non può ignorare i funesti scenari internazionali dalla guerra in Ucraina che continua al conflitto medio orientale tra Israele e Palestina, un pensiero che è stato ricorrente per tutta la cerimonia. Abbiamo dei nostri uomini e donne presenti in Libano già da diversi anni e che quindi stanno operando anche in questo contesto che è particolarmente complicato ma ovviamente non ci tiriamo indietro, facciamo quello che è previsto seguendo le nostre regole di ingaggio. Portare la pace nelle altre aree del mondo dove purtroppo la guerra martoria gente, donne e bambini è un nostro dovere anche perché fermando focolari di pace intorno a noi garantiamo anche a noi una maggiore stabilizzazione, una maggiore sicurezza. Presenti nell'occasione tutte le principali autorità civili, militari e religiose dai sindaci dei principali poliurbani di Pesaro, Fanno e Urbino al presidente della provincia, ai consiglieri e assessori regionali di questo territorio fino a un esponente del Parlamento come l'onorevole Baldelli. Con due conflitti bellici purtroppo accesi nel mondo è ancora più importante ricordare l'opera di pacificazione che svolgono le nostre forze armate, le nostre forze armate nel mondo ma anche un pensiero alle forze dell'ordine che in questo momento sono impegnati, impegnate nelle azioni ad alto impatto per restituire alle nostre città sicurezza. Quindi questo giorno e questa mia presenza è un momento di vicinanza alle forze armate e alle forze dell'ordine. E tantissimi sono stati anche i ragazzi delle scuole di Vallefoglia che hanno partecipato alla giornata delle forze armate celebrata appunto il 4 novembre a Montecchio in contemporanea quella pesarese di cui vi abbiamo appena parlato. La celebrazione è stata accompagnata dalle musiche dell'orchestra dell'istituto comprensivo Pian del Bruscolo, dalle testimonianze delle associazioni combattenti e reduci e dalle deposizioni di corone dall'oro ai piedi dei monumenti ai caduti presenti sul territorio di Vallefoglia. Ed ora cambiamo ancora argomento e anche in questo lunedì dedichiamo uno spazio alle nuove attività sul nostro territorio. Oggi parliamo in modo particolare del centro di formazione linguistica in lingua presente nel centro storico di Pesaro da mezzo secolo e che questo weekend ha aperto una seconda sede sulla statale adriatica. Vediamo. Amiche, amici di Rossini TV oggi siamo all'inaugurazione della nuova o meglio della seconda sede di In Lingua School, un'attività conosciutissima nella nostra città, conosciutissima anche dai telespettatori di Rossini TV. Vi faremo scoprire nel dettaglio le nuove aule, i nuovi corsi, tutte le attività e andremo ad ascoltare la viva voce dei protagonisti di questa giornata così importante. Proprio perché volevamo andare incontro alle esigenze della città abbiamo deciso di non essere più solamente nel centro storico dove siamo storicamente appunto dal 1971, la stessa sede in cui mia mamma ha aperto la piccola scuola di lingua in lingua di Pesaro appunto così tanto tempo fa e siamo ancora lì, continueremo a essere lì con Ampie Sale, un nuovissimo laboratorio linguistico dove comunque portiamo avanti gli esami di certificazione, i test e i corsi di formazione ma ora è qui nella statale adriatica all'angolo con via del Carso, qui abbiamo parcheggio e quindi abbiamo la possibilità di farci raggiungere da chi non vuole andare a piedi in bicicletta nella nostra sede ma da chi vuole venire in macchina e parcheggiare, inoltre facendo più di 4000 esami di certificazione all'anno per non solo per Pesaro ma per tutta la regione e non solo e abbiamo anche tanto materiale cartaceo da trasportare quindi noi stessi in questo modo, noi stessi perché noi stessi in questo modo abbiamo la possibilità di lavorare con più facilità e diciamo logisticamente in maniera migliore. Naturalmente l'inglese la fa da padrone però comunque anche tante altre lingue che avete via via aumentato in base alle necessità del mondo perché poi questo probabilmente è il punto chiave, stare a vedere che cosa il mondo chiede e dare la possibilità di offrirlo a chi lo cerca e ne trae aggioramento. Infatti hai detto bene, ritengo che non ci si debba mai fermare, con l'occhio dobbiamo osservare e capire di che cosa si ha bisogno, di che cosa hanno bisogno oggi i giovani o anche i meno giovani, di formazione linguistica sì ma che cosa è cambiato in questa formazione linguistica? L'inglese non è più il saper dire frasi semplici di base ma è saper comunicare sia a livello personale quando si fa un viaggio di piacere di turismo ma anche quando si lavora quindi un inglese che è specifico per le esigenze o di lavoro o personali e poi le altre lingue perché abbiamo detto l'inglese non è più l'unica lingua necessaria quindi il tedesco assolutamente e anche per il tedesco oltre la formazione linguistica possiamo fare esami di certificazione quindi formarsi e dimostrare e mostrare quello che si è imparato. Di conseguenza ecco le esigenze attuali sono non solo una generica conoscenza linguistica ma di quale lingua abbiamo anche il russo, l'arabo, il cinese, il giapponese, il portoghese oltre chiaramente all'inglese, il francese, il tedesco, lo spagnolo, l'italiano per stranieri eccetera. Di conseguenza ecco le esigenze sono queste e noi ci formiamo costantemente e ogni anno per noi intendo dire i nostri insegnanti ma anche il personale di segreteria ogni anno ci formiamo costantemente per essere aggiornate coi tempi per sapere in quale direzione vanno le lingue e anche capire appunto che cosa serve per questo siamo diventati anche quest'anno Polo Universitario Multiversity e proprio perché ormai le persone abbiamo visto che ci vengono a chiedere insegnanti per esempio ma non solo e anche studenti che vogliono portare avanti sia lo studio che al lavoro ci vengono a chiedere se oltre alle lingue formiamo in altro quindi abbiamo deciso di dare la possibilità di offrire la possibilità ai nostri allievi o comunque a coloro che hanno questa esigenza di venire a iscriversi ad un corso universitario nella facoltà in cui vogliono laurearsi e quindi ecco portiamo avanti sempre più progetti. Un'attività storica nella nostra città che si allarga una bellissima sede davvero molto bella molto accogliente che è la dimostrazione che delle lingue abbiamo davvero tantissimo bisogno durante tutta la nostra vita non è solo una questione nell'età scolare nella quale si studia proprio abbiamo bisogno di una formazione costante durante tutta la vita sulle lingue sono sempre più importanti per capire il mondo sono sempre più importanti per il lavoro per il turismo per la cultura e poi per noi essere in questo luogo alla vigilia della capitale della cultura dimostra anche una città che vuole essere sempre più internazionale quindi spera che grazie alla capitale della cultura possano venire qua anche tante persone dall'estero nei prossimi anni. e avrete la possibilità di approfondire ulteriormente questa inaugurazione nello speciale che trasmetteremo domani 7 novembre alle ore 21 e 20 ora invece vi mostriamo queste suggestive immagini riguardanti l'anomalo effetto climatico avvenuto proprio ieri sul litorale di Gabice mare quello di un cielo coloratosi di tinte rosa e violace per un raro fenomeno di aurora boreale tipico delle regioni artiche del pianeta ma che per un inconsueto evento meteorologico si è riproposto ieri a 30 anni di distanza dall'ultimo simile avvistamento. Nel parco pubblico di via Abia nel quartiere pesarese di Pantano è stata inaugurata ieri la panchina gialla della cultura dei diritti umani un'installazione che recepisce una mozione del consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Lorenzo Lugli per realizzare questo simbolo di riflessione alla lotta alle disuguaglianze alle ingiustizie in tema di diritti umani su cui da sempre si batte Amnesty International associazione che è stata presente all'inaugurazione assieme ai volontari di Hauser del quartiere Pantano e degli assessori comunali Frenquellucci, Pandolfi e Murgia. In Piazza del Popolo da venerdì 10 a domenica 12 novembre torna la terza edizione di Ciocco Pesaro manifestazione promossa dal comune e da confartigianato 15 espositori provenienti da tutta Italia porteranno nel cuore del centro storico le loro eccellenze cioccolatiere per tre giorni dalle ore 10 alle 22 momento particolare domenica alle ore 16 quando il maestro cioccolatiere Paolo Staccoli titolare dell'omonima pasticceria di Cattolica creerà sul palco della piazza il cioccolatino dedicato a Pesaro capitale italiana della cultura 2024. Domani martedì 7 novembre alle ore 20 al cinema multiplex Giometti di Pesaro sarà trasmessa ad ingresso gratuito la ripresa RAI della Cenerentola in scena al Rossini Opera Festival nel 2000. L'iniziativa fa parte di Cenerentola Hashtag 25 il progetto che celebra il venticinquesimo anniversario della messa in scena di Luca Ronconi al ROF. La proiezione sarà preceduta da una introduzione a cura di Ilaria Narici direttore scientifico della fondazione Rossini e dall'opera rossiniana passiamo alla stagione di danza targata AMAT che si apre domani sera alle ore 21 e 20 al teatro Rossini. Ad aprire la rassegna che è parte integrante della proposta internazionale di Pesaro capitale della cultura sarà lo spettacolo Overdance di Fondazione Nazionale della Danza. In scena una performance divisa in due parti dai titoli Anne Jour Nouvelle e Berthe Party che riprodurranno in maniera artistica il tema delle trasformazioni del corpo con l'età. Una domenica caratterizzata da forte vento non ha rovinato l'apertura del 46esimo festival dell'olio di cartoceto, una quermesse che si completerà domenica 12 novembre. Una domenica di forte vento non ha rovinato l'entusiasmo che da quasi mezzo secolo caratterizza cartoceto a novembre con il suo tradizionale appuntamento con la mostra mercato dell'olio e dell'oliva. Appuntamento che dal 2014 si è ridefinito nel format di cartoceto DOP il festival per un contenitore che mette sempre al centro il prodotto agroalimentare d'eccellenza DOP ma che lo contorna di molto di più, dai cooking show agli spettacoli musicali nel teatro del trionfo, dall'animazione di strada alle escursioni naturalistiche appuntamento diviso in due domeniche che concederà il bis il 12 di novembre. Quasi mezzo secolo di storia la DOP cartoceto, l'unica DOP le aria di tutta la regione Marche che ricordiamo al di là della denominazione ricomprende anche i territori dei comuni di Fano, di Cogli al Metauro e di Monbaroccio quindi è chiaro che insomma ha anche un riflesso molto positivo da un punto di vista economico per il nostro territorio e quindi credo che meriti una degna celebrazione, valorizzazione ed esaltazione come cerchiamo appunto di fare così negli ultimi anni. Faccio complimenti a Cartoceto perché noi ci dobbiamo guardare come un territorio unito, dobbiamo valorizzare la nostra gastronomia, Fano fa parte della Reale DOP e questa è una bellissima manifestazione che valorizza tutti. Al fianco dei delegati dei comuni della Reale DOP presenti al taglio del nastro anche l'assessore regionale Guzzi e quei comuni che come l'olio vantano l'onore di una propria DOP territoriale. Mi riferisco ovviamente al territorio del comune di Urbino con la Casciotta e mi riferisco anche al comune di Carpegna con il prosciutto anche perché c'è un progetto legato alle tre DOP della nostra provincia, un distretto probabilmente da promuovere e quindi insomma questa presenza istituzionale ha testimonianza dell'importanza dei progetti che stiamo portando avanti sicuramente ci fa particolarmente piacere. Quando si parla di territori, di specificità, di tipicità ognuno ha da offrire delle cose meravigliose in Italia. Ecco noi credo che nella nostra regione una delle cose più particolari che abbiamo è questi nostri meravigliosi borghi inseriti in questi contesti naturali ambientali bellissimi ricchi di cultura, di storia, di tradizione, di enogastronomia, di particolarità e tipicità dei prodotti come appunto qui a Cartoceto l'olio DOP. Questa è se non sbaglio la 46esima edizione quindi togliendo il paio d'anni di Covid siamo vicino ai 50 anni di questa iniziativa. Questo vuol dire che è un'iniziativa che si basa su qualcosa di solido, di vero, di forte, di credibile, non è un qualcosa di improvvisato diciamo così, è solamente di immagine, non è qualcosa che è veramente concreto. Quindi ecco una delle ricchezze delle marche sono proprio questo tipo di iniziative e non per niente io anche oggi come del resto anche gli altri anni sono qui in rappresentanza della regione Marche, in rappresentanza del presidente Acquaroli che proprio nei suoi programmi fin dal primo momento come amministrazione regionale ha posto sempre in evidenza le attività legate alla tipicità, alla gastronomia, alla bellezza dei nostri borghi e dei nostri territori. A infiocchettare il fulcro centrale del festival il consueto impegno dei volontari della Proloco affiancato da quello degli olivicoltori che in questo 2023 hanno dovuto barcamenarsi in mezzo alle difficoltà di un meteo inclemente. A parte il clima che ci ha un pochettino penalizzato c'è anche la campagna olivicola che non è stata una delle migliori però comunque i produttori hanno risposto alla nostra chiamata venendo in piazza. Ci tengo a precisare che comunque l'olio è di un'ottima qualità anche se è poco perché ma dovuto al clima, alla stagione climatica che è stata un pochettino dura, che ci ha un pochettino messo in difficoltà le aziende agricole ma non solo l'olio, il vino poco, le castagne poco, il grano poco, quindi è stata una stagione agricola scarsa e facendo fronte alle spese che hanno l'agricoltore comunque i prezzi un pochettino sono saliti ma questo giustifica comunque il prezzo, il prodotto di qualità. Non solo la bontà dell'olio anche la qualità dell'offerta musicale. Ieri è andato sold out il concerto di Simona Molinari, domenica prossima si concederà il bis con il concerto di Gaemon, sempre al Teatro del Trionfo. Dal 2014, accanto alla centralità del prodotto, ho voluto un po' costruire tutta una serie di attività, di intrattenimenti di carattere culturale, artistico e musicale che non sono soltanto un po' il format di Cartocetto dopo il Festival ma vogliono anche essere di più, vorrebbero essere se non altro quel modello di sviluppo socio-economico che l'amministrazione ha in testa, in animo e soprattutto tra gli obiettivi concreti per lo sviluppo appunto sia sociale che ed economico di questo meraviglioso territorio. E concludiamo il nostro telegiornale come sempre del lunedì con le notizie riguardanti lo sport. Inutile dire che dopo l'impresa di Milano ci si aspettava ben altro e invece per la VL arriva la terza sconfitta su tre gare casalinghe. Nel sabato sera della Vitri Frigo Arena la Giavi Napoli si dimostra superiore e vince con un netto 77-97. 20 punti di passivo frutto di una gara che i campani hanno condotto dal secondo quarto in cui hanno preso il largo chiudendo ogni spazio alla squadra di Buscaglia che non riesce più a trovare fluidità di gioco. Per la VL una gara storta su tutta la linea in cui si salvano solo Bluiet e il solito Totè. In Serie B arriva invece la seconda sconfitta consecutiva per l'Ital Service Loreto con la Golden a Senigallia che vince al Palamegabox al termine di un equilibrato 78-79 in cui Loreto si mangia le mani per una partita condotta per lunghi tratti. Nel calcio arriva il terzo pareggio di fila e il settimo risultato utile in serie per la Vispesero. Come sei giorni prima col Pineto anche con l'Arezzo finisce 1-1 al Benelli. Vische si divora due grosse chance nel primo tempo con Sille Pucciarelli e Toscani che al sessantesimo passano in vantaggio al primo tiro con una bella azione finalizzata da Pattarello. Vische però non molla mai e perviene al pari al 91esimo con Silla che di testa corre in rete una punizione di Di Paola. Nel calcio 5 cade con un netto 1-4 l'Ital Service al Palamegabox al cospetto della Sandro Abate Avellino. E dire che Pesero aveva chiuso il primo tempo in vantaggio sull'1-0 griffato Tony Dandel. Nella ripresa si scatena la capolista campana mentre Pesero sbatte sul portiere avversario e su tre legni che certificano la punizione troppo severa per i biancorossi. Nel volley la Megabox Vallefoglia subisce la terza sconfitta di fila uscendo KO dalla I-Work Arena in 3-7 contro Busto Arsizia brava ad aggredire sin dall'inizio l'avversario. Solo nel secondo set le Tigre rimangono in partita perdendo in volata 26-24 mentre negli altri due parziali le padrone di casa tengono in pugno il gioco vincendo connetti 25-18 e 25-17. Eccoci arrivati alla fine del nostro telegiornale. Vi ricordo che ci sarà una replica alle 20.30 e subito dopo questa replica intorno alle 21.20 questa sera in prima serata abbiamo un approfondimento dedicato alla finanza e alla previdenza. Un approfondimento molto interessante perché riguarda i nostri risparmi e riguarda la nostra tutela e lo faremo con l'esperto Nicolò Del Monte. E poi vi ricordiamo domani vi aspetto alle 7.20 in diretta con la nostra rassegna stampa sul canale 80, sulla pagina Facebook, in diretta sul nostro sito internet e anche sulla nostra applicazione. E poi vi anticipiamo intanto che giovedì ci sarà una puntata da non perdere con Insieme a Canestro. Alle 21.20 vi aspettiamo in diretta perché Elisabetta Ferri avrà in studio Maurizio Buscaglia, il coach della Carpegna Prosciutto Basket per la prima volta negli studi di Rossini TV e ci sarà con lui anche Matteo Fattori, opinionista di Sportando. Grazie per averci seguito come sempre, buona serata a tutti voi.